In quest'Aula questi decreti in materia ambientale relativi alla terra dei fuochi sono già arrivati e ricordo che proprio sull'ordine del giorno relativo ad un ampliamento di una cosa fatta dallo stesso Ministro, una cosa positiva, cioè bloccare per due anni l'importo di rifiuti in Campania, la deputata Salernale Carfagna sbandò sulla sedia dopo che io la nominai perché non sapeva nemmeno cosa stava votando. Allora certe persone, forse è meglio che tornano a fare le peline e le sciogherre a posto di distruggere la Campania e la salute dei cittadini, vergogna!